Ormai c'è un teorema che credo sia esatto, qualunque film al 98% che venga candidato a dei premi quali Golden Globe e Oscar di solito non hanno una forte componente narrativa davvero interessante, davvero intrigante, sono tutto fumo e niente arrosto è il caso di Salburn della Fennel del 2023 che adesso ne parliamo bene perché la vittoria dell'accidente direbbero alcuni filosofi sulla sostanza cioè è un film che vuole puntare tanto su un certo aspetto magniloquente, incredibile, con attori anche piuttosto bravi ecco, perché ha scelto la Fennel dei grandi attori, Rosamunda Pike, Barry Keoghan soprattutto e anche attori che ho già visto quest'anno in realtà, il nostro Jacob Elfondi che è in Priscilla ma adesso ne parliamo, ne parliamo un attimo salve sono Alcaline Hammer, benvenuti sul mio canale, siamo qua per parlare del film di oggi Salburn che è su Prime Video, la porto già adesso, la recensione la giro già adesso per domani sono al mezzo della notte, non riesco a dormire, ho visto questo film e mi sta avendo un po' il nervosino quindi ne voglio parlare con voi prima di andare avanti vi invito a iscrivervi, a supportarmi e se vi va anche di abbonarvi per solo un euro e 99 al mese per supportarmi, poi farò più livelli dove a gennaio metterò delle proposte più interessanti come live esclusive eccetera, al momento se vi va di supportarmi basta un'iscrizione o anche solo un like quindi, incominciamo Chiara Fennell, la regista sceneggiatrice di giovane... mi devo censurare giovane donna molto promettente, schierata politicamente che due anni fa, sì, vinse il miglior sceneggiatura agli Oscar ovviamente un film che conosciamo per chi è esperto o interessato al cinema sa di che cosa sto parlando e non voglio addentarmi in quel campo una cosa voglio dirla subito nella Fennell, no? ho visto due film solo, non so se ne ho fatti altri e in questi due film, che sono quelli più sorprendenti, che piacciono un sacco perché se ne parla benissimo di questo film mi sono reso conto che la Fennell non sa scrivere dei personaggi normali cosa intendo dire con normali? che hanno una psicologia lineare no? sono tutti dei pazzi, degli emarginati, degli esclusi o dei folli non c'è mai un personaggio vicino a noi, vicino alla normalità un personaggio che ha dei pregi e dei difetti sono tutti personaggi sopra le righe e questo è una spia luminosa che ci fa capire che forse non è così brava a scrivere perché la vera scrittura si vede quando tu rendi il pazzo normale in questo caso il lavoro si fa con Barry Keoghan forse il più approfondito ma guarda caso è il protagonista e non è completamente riuscito questo lavoro il film di che cosa parla brevemente? di questo ragazzo umile che è in questa scuola università prestigiosa adesso non ricordo bene, scuola prestigiosa dove lui è molto povero è un emarginato, isolato e entra in contatto con questo ricco figlio di una famiglia molto prestigiosa e riesce a entrare nel suo giro di simpatie insomma e farsi invitare a Satburn questa villa enorme questa casa da sogno, questa mansion da sogno di questa famiglia e qua ci saranno cose, succederanno cose strane perché i personaggi della villa sono ricchissimi sono della famiglia di questo ragazzo che è interpretato da, come si chiamava, Jacob mi pare, Elfondi di cui adesso parliamo e dei suoi familiari Rosamunda Pike su tutti che ruba la scena a tutti a tutti anche a Barry Keoghan compreso ed è davvero un cast di gran valore perché succedono cose sopra le righe essenzialmente questo con un finale sorprendente da un certo punto di vista che ha anche senso ma che non è ben spiegato perché il film è sbilanciatissimo dopo farò una parte spoiler perché ne voglio parlare ora prima di tutto voglio dire questa cosa Elfondi che è l'attore che fa adesso non mi ricordo il nome che fa l'amico più di un amico del nostro Barry Keoghan del ragazzo umido della scuola perché si capisce che c'è una relazione omosessuale e bisessuale questo lo posso dire in uno spoiler diciamo subito che l'attore Elfondi ha fatto che sono due film ovvero Elvis in Priscilla e in questo caso il Belloccio un po' stupidotto un po' alla ricerca di attenzioni di questo film ora è chiaro che l'attore non è male anzi mi è piaciuto abbastanza in entambi i film in realtà ma fa sempre questo ruolo molto limitato molto poco approfondito come tutto il resto del film come anche tutte le caratterizzazioni perché Rosamonda Pike è pur divina in questa mamma sopra le righe che ha visto di tutto nella sua vita con la sua ricchezza e con la sua apertura mentale ha visto di tutto e parla del dolore parla della sofferenza parla del del sesso parla di sua figlia come se fosse una cosa normalissima e allo stesso tempo è una pazza squilibrata e non c'è un reale approfondimento quindi già la Fennell ci fa capire che per il suo punto di vista questa classe aristocratica è immondizia che va benissimo lo fa anche Ettore Scola di parlare male di certi individui e fa e fa del grande cinema sparlando proprio di un'intera classe sociale spesso dei poveri no? che è più coraggioso parlare male dei poveri in brutti sporchi e cattivi piuttosto che parlare male del vabbè Champagne e quindi il film banalizza questi ricchi come immondizia sono merdine no? sì sicuramente perché non lavorano ma allo stesso tempo vorrei uno scavo psicologico perché se no il film rimane di superficie e il finale stona tantissimo perché c'è una scelta narrativa che vi dico dopo no? perché il film comunque ha dei pregi lo voglio dire questo va messo in scena che ti dà il brividino l'ansietta te la dà ma è troppo lungo perché dura due ore non è non è non è un quarto perché sei minuti di titoli di coda per fortuna ma due ore buone abbondanti no? e allora in due ore succede poco molto poco e io vi dico che la durata sarebbe stata anche buona se se la scrittura fosse stata buona che si poteva fare perché il soggetto è interessante il trattamento un po' meno ci arriviamo dopo nella parte spoiler chiudo su Kerry Kerry perché Kerry Kyogan Barry Kyogan bravissimo bravissimo sulla falsa riga del cervo sacro riesce a dare nei bei momenti lo sviluppo del suo personaggio di questo ragazzo molto brillante che ha tanta fame di farsi degli amici e che si sa far rispettare e si vede il suo passaggio graduale e riusciamo a respirare il suo sviluppo narrativo e infatti questo è il punto di forza il film si ci affida quasi completamente sopra però allo stesso tempo non va fino in fondo ma va fino in fondo soprattutto per il finale che ci vuole dire tanto di più della trama ma lo fa in modo sbrigativo e il nostro protagonista ne risente tanto quindi chiudiamo questa parte uno spoiler dicendo che riassunto abbiamo un lato tecnico molto buono molto interessante il location che funzionano colori anche interessanti scelte espressioniste spesso si sta nel buio quindi si sfrutta questo il gioco delle ombre c'è questa ossessione che il film fa per gli specchi quindi una messa in scena linciana sofisticata per un contenuto che a mio parere benché ha bozzato benché interessante non riesce a sviluppare completamente i temi in gioco ok questo ah e attori molto bravi che però vengono un po' castrati dalla sceneggiatura quindi un film che se dovessi dare un voto gli darei un 5 e mezzo perché almeno c'è qualcosa di cui parlare c'è una una linea di pensiero una scelta narrativa che può essere eseguita non è il filmone tipo il mondo dietro di te che è il nulla cosmico e vuole sembrare il sacrificio del il sacrificio del cervo sacro è un film questo che ha un senso secondo me proprio per il finale non me ne è portato bene a termine questo andiamo in spoiler fra 5 4 3 2 1 eccoci spoiler dico subito che il finale può essere super interessante super intrigante lui ha fatto tutto quello per ottenere quella villa cioè acquisire quello status va bene è interessante c'è una sorta di noir sorta di mistero che la messa in scena ti cela molto bene perché sembra tutto un avvenire di di catastrofi che però guarda caso arrivano e colpiscono i nemici del nostro protagonista che vengono fatti fuori sistematicamente quindi la regia da questo punto di vista riesce a nascondere il giallo che è sempre un'ottima cosa ma ma e qua non mi non mi torna non mi torna come empatia non tanto come significato come senso perché il film come detto ha un senso lui alla fine riesce a ottenere quella casa tutta per sé finalmente è nudo e può fare quello che vuole quindi è stata tutta una finzione e piano piano anche quelle che sembrava la sua sincerità nel voler bene a questi personaggi ricchi che lo schifavano e lo capiamo verso la fine perché c'è quella Venezia quindi la sorella del del suo amico no che questa linfomane che nella vasca gli dice no guarda sai come ti chiamiamo Spider-Man perché sei sempre a fare un piano ecco insomma a creare la tua tela e a svilupparla il padre stesso gli dà dei soldi per sparire eccetera ma lui ritornerà e punterà tutto sul come dire farsi riaccettare dalla nostra Rosamunda Pike e questo c'è ma se tu in un film di due ore e cinque due ore e dieci circa mi mi banalizzi tutta la parte finale che è quella più importante forse gli ultimi dieci minuti sono i più importanti del film perché mi fai capire come è arrivato a ottenerlo perché si dice solo sul finale eh beh ma è morto quello è morto l'altro e quindi dice Rosamunda divina Rosamunda vieni da me stai da me così ed è tutto molto frettoloso per esempio mi sarei aspettato in un film dove non c'è questa regia sensazionalistica che vuole un po' coprire anche il senso del realismo che la polizia intervenga per queste morti così da dare il senso di mistero uno può dire ma è lui è stato lui oppure qualcun altro altri sospetti invece il film va molto veloce su questo e non si capisce se voglia essere realistico da un lato oppure simbolico dall'altro o surreale non si capisce bene è un po' un mischione e quindi tu ti perdi pezzi e io avrei voluto davvero vedere lui che torna in quella casa come tra virgolette marito di Rosamunda Paik invece viene tutto banalizzato con ah anche Rosamunda Paik è in coma insomma sta morendo e basta quindi la uccide toglie il tubo fa sì che un incidente poi si vede che c'è un funerale chi ha indagato no perché è simbolico no non importa è tutto chiaro certo quindi se su due ore di film è più la parte più importante ai dieci minuti cosa succede che la parte precedente hai riempito la storia di fatti inutili cioè il film poteva durare tranquillamente tolte gli ultimi dieci un'ora e mezza invece dura due ore e qualcosa perché si ripetono concetti cioè lui è spaesato lui vuole fare amicizia con questi ricchi con questi personaggi strani e bizzarri e lo fanno cose strane e bizzarre sembra Babylon nel senso che ridondante continuamente si ripete si ripete e si ripete e si ripete sono interessanti alcuni momenti ruolo chiave sicuramente Venisia mi pare si chiama così Venisia che è l'ago della bilancia che ci fa capire qualcosa di più su questi personaggi per esempio Venisia dice a a a a a a tu sei lo strumento del di mio fratello no? quindi non sei nessuno essenzialmente e lei sarà importante per questa ragione perché si ricollega anche con quella scena nella vasca di cui abbiamo parlato anche prima quello è un personaggio ben riuscito ma ha poche scene poche scene interessante il ruolo del del black amico che spiega un po' come funziona il gioco no? e e mette nello spettatore questo senso di ansia e l'empatia verso il protagonista che dice a a Barry Keoghan tu questa casa te la sognerai e ti farai le seghe sopra perché non l'avrai mai ed è interessante come finisce il film ok questi momenti ci sono ma tante volte come la lunga presentazione del disagio che può essere anche interessante se vogliamo farla così lunga ma a mio parere si poteva accorciare sia la parte iniziale che quella poi nella casa è ridondante si ripetono cose per esempio scene in cui loro stanno nudi in mezzo all'erba o si ubriacano feste si poteva essere più asciutti più incisivi più importanti dare più spiegazioni magari su questa classe sociale che è ricca disinibita folle senza freni eccetera ma altro il perché il perché alcuni dicono ma a me non interessa un po' come i film dove non lo so sulla guerra o fantascientifici dove tutti i villain sembrano nazisti e a me piace che uccidano i nazisti nei film sì ok anche a me perché sono state bravi persone però non credo che delineare questi villain quasi stereotipati sia una bella analisi non credo proprio dico la verità quindi mi ha lasciato un po' di stucco quando vedevo situazioni ripetersi e con ancora 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 ho detto ma peccato interessante potrebbe venire fuori una bella critica sociale alla fine sono ricchi sono stronzi e io devo devo vendicarmi del loro classismo va bene ok e questa a grandi linee questo era il mio problema come vi ho detto al finale avrei sviluppato molto di più lui che entra in casa e diventa poi il marito fra virgolette di da pike invece non si mostra niente niente avrei voluto sapere un po' di più sul passato di Carrie perché Carrie ma perché Barry Kyogan il suo personaggio con la famiglia c'è solo una scena avrei voluto sapere molto molto di più pure quello avrei tolto scene ridondanti magari per metterle sul finale invece ha gestito male e il montaggio e anche la sceneggiatura è molto sensazionalistico un film fatto per eccitare come direbbe Nick DeLarge i cinefiletti per eccitare l'incompetente Carlo di Cinefolli quindi vuol dire che è ecco non fatemi dire altro sarò criticato per questa scelta perché sarà un film bellissimo che vincerà premi su premi ce ne faremo una ragione ciao raga ho sonno